buongiorno ancora in italia parto domani ma tanto questo è un video unico due video praticamente uno dove sono stato ospite del mio fratello albanese a san donato e riguardatevi il video veramente pesce fresco dove si mangia bene dappertutto mi riconoscete anche qua a padova a bassano a vicenza è bellissimo è bellissimo il vostro affetto allora questo video è completamente diverso tanto tre minuti velocissimo ascoltatelo è un video sulle opportunità quello che voglio dirti è questo trova il tempo trova il tempo per farti le visite analisi del sangue tiroide trovatevi il tempo per la cura di voi stessi io ultimamente sto affrontando questo percorso voi lo sapete di questa nuova tecnologia direi spaziale perché comunque è una tecnologia studiata per gli astronauti è utilizzata sul campo per l'esercito quindi sto venendo a conoscenza di molte cose e comunque ho iniziato anche io già da tempo perché sapevate che facevo palestra adesso molto più soft un controllo sul mio corpo quindi gli esami del sangue la prostata per noi uomini fatelo molti dicono non ho tempo per fare questi esami ricordati adesso è un monito per farti capire che la cosa più importante il tuo corpo come tratti il tuo corpo potrai andare avanti io faccio 50 anni so che mio padre non ha mai fatto attività fisica infatti è arrivato a 73 anni che 74 adesso farà spero dio che comunque non è super in forma ma perché non ha mai fatto nulla ora io non penso a meno che non succeda qualcosa di grave mi sto toccando di arrivare in quel modo ai 74 perché comunque ho iniziato a curare me stesso con l'alimentazione eliminando tutto quello che è veleno tutto quello che adesso vado contro tutti ma non mi interessa tutti quelli guru che dicono mangia i carboidrati a morire togliete lo zucchero e se voi fate le ricerche su internet oramai c'è questa rincorsa alle diete io non faccio una dieta ragazzi io non sto facendo una dieta e vi dico trovate il tempo per farvi gli esami per sapere se state bene e se va tutto bene perché sicuramente se non lo fate questo troverete il tempo per curarvi quindi questo è il mio messaggio che voglio lanciarvi oggi quindi trova il tempo per te stesso ricordati che tu hai solo questa vita e questo devi fare lo so questo non è il mio solito video però io quando sto a milano faccio questo o sto al nord faccio questo quindi è anche utile che tu lo sappia nel senso ma max che cosa fai video i video lo faccio per farti vedere quanto è bella l'albania quanto è bella la mia nuova vita in albania ma in realtà il mio è un lavoro completamente diverso io non faccio i video io non sono i video non mi sostengono economicamente quindi trova il tempo fai in modo che la tua vita nella tua vita che nella tua via ci sia tempo io sto facendo questo da tempo sto ricercando il tempo e per avere tempo ci vuole tempo non puoi decidere oggi ho tempo non vado più a lavorare no ci vuole tempo per avere tempo quindi trovalo poi tu sai che io faccio questo business che posso aiutarti ad avere tempo ma ci vuole tempo grazie di aver ascoltato visto i miei haters scriveranno quante volte è scritto e tempo mai trovato il tempo per poterlo scrivere sotto il mio video e a me questo serve bella